appuntamento fisso eccolo vai 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 più forte dai 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 sgarufa dai dai bravo vai ancora dai sto gatto dai bravo vai vai dai bravo sgarufa sgammetta vai 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 tanto io sto al bagno non è che momento di relax niente dai dai te posso noci madonna mia che pena madonna mia madonna mia sto gatto è un gatto puzzo cioè io sto sopra cioè come cazzo è possibile che urlano così tanto oh ma che sei da urlare eh oh che stai urlare ma ora si sente da sopra come un coso comunque nonostante il casino che fanno senti senti è tipo un mese che mi vergogna dirlo sto intraprendendo un percorso con una psicologa e oggi il compito per la prossima volta è stato un tema che ho riscritto dopo tanti anni chiaramente a zampa di gallina però mi sono liberato mi sono buttato fuori parecchie cose bello